Concluse anche le elezioni amministrative nei comuni campani. Sono stati 85 comuni della Regione chiamati al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre per l'elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale. Dopo i lunghi spogli, il risultato è il seguente. 72 sono stati i sindaci eletti al primo turno, mentre i restanti 13 andranno al ballottaggio previsto i giorni 4 e 5 ottobre. Grande successo ad Ercolano per Ciro Bonaiuto. Il Sindaco uscente ha scalzato facilmente la concorrenza con l'80% delle preferenze. È difficile esprimere l'emozione ed anche la responsabilità che sento a sapere della fiducia che tante persone hanno riposto in me. Il mio primo impulso è stato quello di ringraziare la città. Da domani si ritorna in prima linea con tanto entusiasmo e con la consapevolezza di dover ripagare la fiducia che mi è stata data. Le parole del Sindaco. Si posiziona a seconda Colomba Formisano con il 15,48%. Testa a testa invece per i due candidati sindaci outsider, Luigi Parentato con Centro Democratico al 2,42% e Pierluigi Sorrentino di Ercolano e la Stella al 2,23%. Vittoria abissa anche per il Sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che con il 65,80% rinnova il suo impegno verso la città per altri cinque anni. Grande commozione sui social da parte del Sindaco uscente che ha ringraziato la famiglia e tutti coloro che hanno espresso fiducia nei suoi confronti. Raggiunge il 21,81% il candidato Giovanni Marino. Terzo piazzamento per Patrizia Nola del Movimento 5 Stelle che si attesta al 7,36% e staccati Salvatore Caldieri di Fratelli d'Italia con il 2,68% e Luigi Gallo con il 2,35% per la lista civica Italia in Comune. Grande festa a Pompei per l'elezione del nuovo sindaco Carmine Lo Sapio che sul filo del rasoio con il 50,2% delle preferenze è riuscito a vincere sulla concorrenza. Sui social scrive Soffia un vento nuovo su Pompei ed è il vento di cambiamento. Da oggi inizia un nuovo corso per la città. Grazie a tutti i cittadini, ora mettiamoci al lavoro. Tra gli altri comuni, lungo la fascia costiera, rinconfermato a Massa Lubrenze il sindaco uscente Lorenzo Balduccelli e Domenico Ambrosino nel comune di Procida. Passa al secondo turno la sfida a Sorrento. Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50% più 1. ragion per cui ci sarà il ballottaggio tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo.